Ben tornati a Studio Mattina, è con grandissimo piacere che incontriamo il nostro super ospite di oggi. Un personaggio molto gradito sul piccolo schermo, tutti la ricorderete per aver interpretato la parte di Assunta nella fiction tanto amata dai napoletani ma anche dagli italiani, Un posto al sole. È con noi Daria D'Antonio, benvenuta. Grazie, grazie, ben trovati. Allora Daria, oggi affrontiamo con te un bel argomento tra set e scuola, ovvero questa donna, questa attrice molto brava ma non soltanto, anche regista, ne parleremo tra pochissimo, che si divide tra il piccolo schermo e le attività di insegnamento con un'associazione fondata a Portici, Talia, un'associazione formata da tre donne che concentra la sua attività sul territorio. Assolutamente sì, siamo tre donne, tre attrici, ricordo le mie colleghe Elisabetta D'Apunzo e Gioia Miale e cinque anni fa ci siamo guardate in faccia e abbiamo detto che cosa possiamo fare per la nostra città, perché noi abbiamo iniziato a Portici, io personalmente con la scuola di Isa Danieli, ci siamo dette non c'è più nulla a Portici, non c'era più niente che riguardasse il teatro, comunque le arti sceniche, il canto, la musica. E abbiamo deciso di formare, di fondare l'associazione e di cominciare nel nostro piccolo a fare dei piccoli corsi di recitazione, la cosa è andata benissimo, ormai sono quattro anni che lavoriamo a Portici, abbiamo una nostra sede, abbiamo la nostra scuola dove insegniamo noi personalmente, abbiamo anche altri docenti, abbiamo, da quest'anno abbiamo anche il corso di canto, il corso di musica, insomma è cresciuto, è diventato veramente il nostro figlio che sta crescendo e speriamo diventi grande, insomma maggiorenne, non so come dire. Speriamo di sì, anche perché ci sono anche degli altri progetti in cantiere, oltre ad avere una tua associazione con la quale, ripetiamo, operi con altre due donne, vogliamo ricordare i nomi? Sì, Elisabetta Dacunzo e Gioia Miale, che sono due attrici insomma molto valide teatralmente parlando, anche se non sono televisive, io sono un elemento televisivo, diciamo anche se faccio anche teatro da diversi anni, però sono due, insomma Gioia ha finito l'anno scorso la tournée con Luigi De Filippo, Elisabetta ha lavorato con sé, insomma sono due signori attrici. Due signori attrici molto valenti. Io vengo da lontano, ma Elisabetta Dacunzo ha un problema alle spalle, perché bisogna dire la verità, le cose così come stanno è la moglie di Ernesto Lama, e ho detto. Ah, e qui chiudiamo. Guarda, noi preferiamo dire che Ernesto Lama è il marito di Elisabetta Dacunzo. Sì, 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 potremmo andare bene. Ma hai fatto benissimo a sottolineare questa cosa, comunque oltre a questa associazione, Daria insegna anche in altre scuole, quindi porta la sua bravura e la professionalità presso altre scuole che si occupano di formare talenti. Stiamo parlando della New Dance Music in School di Anna Pisco, che tra le altre cose quasi ogni giorno ci spedisce proprio dei bravi talenti, e della ribalta a Napoli di Marianna Di Martino. Allora, Daria, si può dire che comunque tu hai compiuto un bel percorso e che in qualche modo ce l'hai fatta, perché quantomeno tu segui le tue passioni, hai fatto sì che diventassero un lavoro. Stavo, e tra le altre cose... no, no, vabbè, grandissimo. A proposito di attività di insegnamento, Daria, ricordiamo New Dance Music in School, l'abbiamo già detto, c'è la ribalta, c'è proprio la tua attività di insegnante, senza ovviamente fare i nomi, quindi riferendoci ad un particolare talento. Qual è stata la tua soddisfazione più grande in questi anni di insegnamento ai giovani artisti? Guarda, la soddisfazione è quotidiana, perché ogni giorno, ovviamente, tra tanti allievi c'è quello che lo vuole fare di professione, quello che veramente ci tiene, quello che studia, e le soddisfazioni vengono tutti i giorni. Anche adesso ricordavo l'episodio con Maria, quella è la soddisfazione nel momento in cui trovi il modo per far uscire da dentro l'anima delle persone, perché poi alla fine non si insegna la recitazione, si insegna il modo per tirar fuori quello che si ha dentro, perché recitare è comunicare come cantare, bisogna trovare il modo per far tirare fuori ai ragazzi quelle che sono le proprie passioni, la propria anima e farla portare fuori. E la soddisfazione più grande ti viene quando ti vengono poi dopo a comunicare e dicono, ma io mi sono emozionata tantissimo, tremavo sul palco, ero felicissima di questa cosa, e quella è la soddisfazione. Quindi che lo si faccia o meno per professione, l'importante è che in qualche modo quest'anima sbocci. Assolutamente, perché poi te lo porti avanti anche per tutta la vita. 23 marzo, teatro Don Peppe Diana a Partici, antiche fabule napolitane, che ti vede anche regista. Sì, 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 non per la prima volta, perché io mi sono già dilettata in passato con la regia, insomma, a me piace proprio, diciamoci la verità, a me piace proprio questo lavoro, quindi trovo circa tutti i modi per rimanerci attaccata. In questo caso la regia, sì, sono regista delle mie colleghe, di Elisabetta e Gioia e anche di Peppe Papa, un altro attore e cantante che ci accompagnerà nello spettacolo. E raccontiamo un po' le leggende napoletane, insomma, e non solo napoletane, andiamo anche, ci spingiamo in tutto il sud. La Iannara, la Bellambriana, la leggenda dei ragù, insomma. Curiosi sono tantissimo queste cose. Ti aspetto, magari. Ma vanno molto, molto volentieri. E quindi questo è un appuntamento rivolto a che tipo di pubblico? A tutti, assolutamente, dai piccoli ai grandi, dai più piccini ai più grandi, perché è uno spettacolo leggero, ci sono anche canzoni, insomma, c'è musica, ci sono filastrocche, c'è un po' di tutto. E veramente vogliamo raccontare, vogliamo raccontare le favole, insomma, le leggende, per farne capire veramente il significato. Perché a volte noi sappiamo, oh sì, esiste la Bellambriana e se mi metto in un determinato punto della casa la vedo. Ma perché? C'è una curiosità che ci è venuta. Abbiamo fatto una serie di ricerche e siamo riusciti, insomma, ad avere qualche informazione preziosa. Beh, sarà sicuramente molto interessante, tra l'altro uno spettacolo organizzato dalla tua associazione, l'associazione Talia. E vogliamo ricordare a questo punto anche ai nostri telespettatori come venirvi a trovare, in qualche modo come poter prendere parte all'attività di questa associazione. Assolutamente, abbiamo una pagina Facebook che si chiama Talia Arti Sceniche. Siamo presenti su Facebook come Talia, proprio associazione culturale. Siamo al Corso Garibaldi a Portici, in una zona centralissima di Portici. E basta prendere un semplice contatto, anche un mettere in prima. Tutto mi piace sulla nostra pagina. E poi un semplice contatto ci venite a trovare, ci sono lezioni di prova, ci sono sia di canto che di recitazione. Insomma, noi siamo uno spazio aperto, perché per noi è fondamentale questo. Nel senso che non siamo chiuse da nessun tipo di struttura, ovviamente non siamo un'accademia riconosciuta. Siamo un posto dove esprimere i propri sentimenti. Ci sono anche persone, voglio dire, l'anno scorso avevamo tra le allieve un'insegnante di ottre 50 anni che ha voluto riscoprire una sua passione giovanile, ci è venuta a trovare e ha fatto la nostra scuola. Sì, ma perché non necessariamente bisogna coltivare l'ambizione di diventare una star. Basta anche una grande passione per quest'arte, che sicuramente è d'aria d'Antonio A. E' una bella carriera che racconteremo tra pochissimo nell'intervista fotografica di Lucio Pierri a Daria D'Antonio. Grazie Daria. Grazie a te. Grazie. Bentornati a Studio Mattina. E allora ripartiamo, ripartiamo con questa amica di viaggio di quest'oggi, Daria D'Antonio. Grazie per aver accettato il nostro invito, dei tuoi progetti futuri e anche immediati a cui stai partecipando in questo istante e in questi momenti. Ne abbiamo già parlato a salotto con Maria Silvia Malvone, invece adesso ci facciamo un bel viaggio all'interno della tua carriera. Sì. Sei così giovane eppure già hai fatto troppe cose per i miei. Grazie per i giovani. E allora partiamo via. Si parte da qua, ovviamente, da Napoli. Eh, Napoli, Napoli è il mio primo vero amore. Io adoro questa città, però soffro, soffro moltissimo per questa città. Io sono legata, io spesso ho detto me ne vado, me ne voglio andare, ma non ce la faccio. Il famoso Fuitvin di Edoardo. Sì, ma io non ce la faccio, non resisto. Sono stata per lavoro un anno circa fuori, sono stata a Roma, sono dovuta tornare, non ce l'ho fatta. Nonostante poi ogni mattina quando esco di casa mi arrabbio, mi innervosisco, il traffico è questo e quell'altro. Però io la amo questa città, la verità, la amo proprio. Senti, tutti i nostri amici ci stanno mettendo la faccia, come giusto che sia, per quello che è accaduto a Città della Scienza. Trenta secondi di contributo anche da parte tua. Non ci arrendiamo, io è quello che dico, non ci arrendiamo. Combattiamo, combattiamo sempre contro tutto, perché se ci arrendiamo è finita, ci distruggono. Sono più forti loro, quindi combattiamo e non ci arrendiamo. Brava Daria. Andiamo avanti, prossima istantanea. Questa signora canuta così bella. Mamma mia quanto è bella. La grandissima Isa Danieli. Isa è... Devi tanto. Io devo tutto a Isa forse. Io devo a Isa come sono adesso, come sono stata formata. Isa mi ha messo il marchio. Io ho cominciato con lei, ho fatto la sua scuola che avevo 14 anni e l'ho frequentata per tre anni. Mi ha messo veramente il timbro di fabbrica. Ma quando è che hai sentito che quella poteva essere la tua strada, quella della recitazione? Quando... Allora, io in realtà la spinta iniziale l'ho avuta alle scuole medie con la mia insegnante di italiano, che era veramente la Dora, era un genio, che ci faceva fare un'oretta di teatro a settimana, perché lei era appassionata e tutto. E lì ho cominciato a sentire, sai, il fricci cure. Mi sono detto, ma perché? Poi mia madre mi ha detto, ma sai che c'è Isa Danieli a teatro? Cioè, c'è Isa Danieli qua a Portici che fa una scuola. Andiamo. E poi quando ho conosciuto Isa è stato proprio amore a prima vista. Sì, perché Isa è una persona di una passionalità estrema, quindi fa tutto con una passionalità estrema, anche l'insegnamento. E quindi ti insegnava ad essere forte con la forza. Ed è stato veramente un momento per avviso. Senti, l'aneddoto più particolare che ti ricordi, che ti viene in mente, legato a Isa. Ah, quello più bello, quello più bello, quando mi... Io avevo, quando ero piccola, i miei capelli erano ancora più ricci, come i suoi, no? E lei non aveva nessun problema a farseli crescere, gonfi e tutto. Io invece cercavo di farli scendere, di sgonfiare. E lei mi guarda e mi disse, piccine, tu sei tale quale a me. E io l'ha dissi, oddio, è vero. È vero, è vero, ha buffato, ma quanta capelli che te hai, mi faccia di dire addirittura. Andiamo avanti. Terza istantanea. Renato il maestro. Come si direbbe, scarto fusce. E piglio prima, era qua, eh, voglio dire. Da Isa a Daniele a Renato Campentieri. Diciamo. Tutti piccoli nomi. Renato è il maestro. Ecco, Isa è l'amore, Renato è il maestro. Perché Renato non ha la passionalità di Isa, nel senso che Isa è più carnale, Renato è più freddo. Però Renato mi ha insegnato veramente tantissimo. Mi ha insegnato come studiare. Mi ha insegnato la tecnica, mi ha insegnato come studiare. E mi ha insegnato che non bisogna mai fermarsi nello studio. Perché Renato, io l'ho conosciuto che già, voglio dire, era grandicello di età. Adesso lo è ancora di più. Lui ha iniziato tardissimo la sua carriera, ha iniziato a 30 anni. Però nel momento in cui ha iniziato non si è più fermato con lo studio. È andato come un treno. Ancora oggi, se lo vedi, lui immerso tra libri, scartoffi e tutto. E questo mi ha insegnato, Renato. Lo studio, il metodo. E questo gli devo. Eh, questo molti di noi comunque se lo scordano. Purtroppo sì. Arrivano a un certo livello, diciamo, ormai. Purtroppo sì. Infatti prima si parlava sei arrivato. Per me non esiste questa parola. Per me non esiste. Per me si arriva al capolinea quando sarà. Esatto. Quello è, si arriva là. Si chiudono gli occhi e via. Esatto, là siamo arrivati. Ma nel frattempo dobbiamo correre, dobbiamo camminare e dobbiamo farne di strada. È vero, è vero. Andiamo avanti. Mamma mia. Tutti proprio. Esci, questa è la tua grande seconda famiglia, praticamente. Sì, sì, sì. Per dieci anni è stata la mia, è vero, la mia seconda famiglia. Germano è stato il mio marito. Tu hai iniziato con un posto a sole estate. No, no, no. Io ho iniziato con un posto a sole. Sì, sì, sì. Ma l'ho iniziato con una cosa. Come è successo? Ma guarda, è successo che io ero a teatro appunto con Renato, con uno spettacolo di Renato a Galleria Toledo. Lì c'era Marita, mi venne a vedere una sera. Marita Delia. Marita Delia, scusa. Io non chiamo Marita perché per me è... Marita Delia mi venne a vedere, no, guarda, c'ho un personaggino per te, piccolino, però guarda, mi dispiace, una sola cosa. Dico, va bene, ma io avevo vent'anni, eh, non è che ero proprio, diciamo, questa grande. Dico, no, mi fa piacere, lo vengo a fare. Faccio sopravino, piace. Mi chiamano di nuovo, guarda, lo devi rifare perché adesso lo facciamo più particolare. Va bene, facciamo. E faccio, vabbè, mi prendono per fare questo personaggio ed effettivamente era una sola posa. Tempo, due mesi, mi richiamano. Ma sai che c'è, il personaggio è piaciuto, vuoi ritornare per altri due mesi? Finisce il contratto, ma vuoi stare altri due mesi? Alla fine sono diventata protagonista così. Due mesi, due mesi, due mesi, alla fine è diventato un anno, alla fine è diventato un anno. Quindi può succedere questa cosa? Assolutamente sì. No, no, perché ho finito ieri sera praticamente. Assolutamente sì, aspetta due mesi. Tra due mesi, ragazzi, due mesi ancora e poi me ne va, che ve lo dico già. L'ha detto d'aria, tra due mesi me ne vado, torno un posto a sole e ciao a tutti. So, 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 me l'hanno detto che hai, insomma, che sei andato in onda e sei stato molto, molto bravo. Ci siamo divertiti, quella è la verità, perché poi credo che, come dicevi tu, questo è un lavoro fatto di grande passionalità e passione. Ma meno male che c'è il divertimento. Altrimenti che si fa? Vediamo un po', andiamo avanti. Io già lo so che cosa arriva, l'hai nominato, eccolo qua. Non poteva mancare. Ma quanti di loro ti avranno fermato e detto, ma secondo me siete proprio una bella coppia nella vita? Ma tutti, tutti praticamente lo hanno, me lo dicono anche oggi, voglio dire, quotidianamente, anche se insomma sono almeno due o tre anni che non sto più in video. però sono evidentemente molto, ancora molto presente e Germano, sì, vabbè, Germano praticamente io, è come se veramente fosse mio marito, perché almeno quando giravo, noi ci vedevamo tutti i giorni, stavamo sempre lì. Un rapporto meraviglioso perché Germano è una persona adorabile, io questo non finirò mai di dirlo e quindi ho, sì sì sì, in realtà è come se fosse un po' mio marito, diciamoci la verità, anche se io ne ho uno a casa, diciamo, con il quale mi vedo. Tutti i giorni, però Germano resta, diciamo, quello lì che nell'immaginario collettivo è mio marito e lo resterà. Ma ti manca un po' il sorsone? Mi manca moltissimo. Ci torneresti? Domani mattina. Ma pure ieri. Ma troppo ridere, Dari. Andiamo avanti. Perché la signora qui presente è stata anche a Venezia, voglio dire. Sì, che meraviglia, che ricordo, che meraviglia, sì 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 sì. Abbiamo studiato bene la tua. Mamma mia, siete meravigliosi, guarda. Sì, Venezia, Venezia è stato un ricordo, ed è un ricordo ancora vivissimo nella mia memoria, perché il red carpet, insomma, ho visto Johnny Depp, ho visto, insomma, e poi ho firmato autografi a Venezia, perché c'era gente che ti riconosceva, che mi riconosceva come assunta. E non fermavo la Johnny Depp? No, no, ma ci mancherebbe. Ma chi è? Io dicevo, ma no, andate dagli altri, ma che venite da me? E invece no, e invece, vabbè, ero con un cortometraggio di Carlo Damasco, che è andato benissimo, ha vinto moltissimi premi, siamo arrivati appunto in finale alla mostra di Venezia, abbiamo vinto il New York Film Festival, quando ho scoperto che il nostro cortometraggio, quindi che a me, in video, mi aveva visto Robert De Niro, mi aveva giudicato lui, e che lui aveva deciso e decretato la nostra vittoria, Lucio ti assicuro che un po' ti fa, ti un po' ti indirisci, ma che è? Ma veramente? Mamma mia, no, sto pensando che in questo momento tu stai pensando in la tua mente, ma io che ci faccio il caffiancacchista, io sono stato giudicato a Robert De Niro, sto parlando con Lucio Pieri, con la musica in sottofondo di Ciro Ammi, che voglio dire, veramente è la quadratura del cerchio, vabbè, un bellissimo ricordo. Sì, un bellissimo ricordo, un bellissimo cortometraggio, un paio di occhiali con Carlo Damasco, che voglio dire, ha avuto veramente un successo, è esploso in un successo che non ci aspettavamo, perché lo abbiamo girato veramente con grandissimo amore per questa storia di Anna Maria Ortese dal mare Lombagna-Napoli, ed è diventato un oggetto prezioso, perché è di una poesia estrema, bellissimo, e ci siamo ritrovati a Venezia a stare lì e a aspettare che ci dissero questo leone d'argento, che non ci hanno dato, perché non ce l'hanno dato, però il gusto di stare lì e di vedere il proprio lavoro sul grande schermo giudicato da tanti, insomma, da cotanti attori e cotanti registi, voglio dire, è stato un momento veramente bellissimo. Senti, posso fare un piccolissimo passo indietro, tornando all'avventura di un posto al sole? C'ho sta domanda che ti devo fare, perché mi ha detto mia mamma, stamattina tu c'hai D'aria, c'hai Assunta, lì, perché non stai a un posto al sole? O meglio, perché sei andata via da un posto al sole? Se ce lo puoi dire, se non ce lo puoi dire, saluta mia mamma e la chiudiamo qua, non c'è problema. Salutiamo tua mamma comunque, a prescindere. Allora, è una nota dolente per me, perché io 5-6 anni fa sono andata via di mia spontanea volontà, perché avevo voglia di fare altro, ero piccolina, ero giovane, avevo 26 anni. Ero un po' satura dell'avventura. Ero un po' satura, ma soprattutto avevo voglia di sperimentare altro, di fare altro, di continuare con il teatro, che avevo dovuto abbandonare, ma abbandonato appena iniziato, perché la mia carriera è stata così fulminea, l'inizio almeno è stato così fulminio, che non mi ha dato il tempo di godere nulla. Quindi, il teatro l'ho iniziato, ho incontrato subito Renato, con Renato ho lavorato, ho fatto degli spettacoli molto interessanti, molto belli, avrei voluto continuare con lui, sono stata assorbita da un posto al sole, perché un posto al sole è veramente un risucchio, nel senso che stai lì e gli devi dare tutte le tue energie e tutto il tuo tempo. Dopo sei anni ho detto, signori, ho bisogno di un momento di pausa. Evidentemente, caro Lucio, non l'hanno pigliata buona, sono fatta, perché poi dopo due anni, un paio di anni, sono ritornata, sono stata lì un annetto, così, poi a un certo punto loro mi hanno fatto capire che non era più, diciamo, il mio personaggio si era esaurito, secondo loro, non esaurito di nervi, ma esaurito proprio di sceneggiatura. I contatti ci sono ancora, ci sentiamo, anche perché io conservo un ricordo bellissimo credo anche loro di me e a me farebbe piacere ritornare. Ma vorrei che tra due mesi andiamo tutti e due? Ma magari! Ma se fidanzo in assunterello troppo, guarda che chiama di sceneggiatura, guarda che ho trovato, eh... Vi prego, vi prego, vi prego, vi preghiamo, facciamo così. No, no, però posso dire una cosa, io se devo ritornare devo tornare con Guido, mi dispiace. Hai ragione, hai ragione, no, 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 ma assolutamente, ok. Non per te. Io stavo rischiando di acquistare la terrazza e il muro che non va a tre e mezza strada perché diceva, ma come se non va a Franco Bosch, non sia mai. Adesso miglioriamo, ci mancherebbe altro, eh, la sacralità. Andiamo avanti. Ah, Fabrizio. Anche questa è una bella avventura. Bellissima. Che cosa hai fatto con Fabrizio Belli Poglio? Il film Lascia perdere Johnny, il suo debutto alla regia, il mio debutto diciamo in un lungometraggio perché è stato il primo che ho girato, oltre il cortometraggio di Carlo Damasco, il suo è stato il primo lungometraggio, un'esperienza meraviglia. Io ho lavorato, a parte al fianco suo, al fianco di Tony Servillo, della quale facevo un amante un po', diciamo, sulle ricche.